Quando fai dei progetti il diavolo ride, si diceva delle mie parti una volta. Il mio concetto di futuro è quello di una poesia di Machado che dice camminante non c'è strada dove andare, si fa strada camminando. Non mi piace che il futuro sia scritto, sia anche solo immaginato. Mi piace provare a pensare che possa durare un attimo oppure in eternità e quindi andare avanti e cercare di capire quello che c'è dopo la curva, ma metro dopo metro.